Rispetto a due anni fa abbiamo aggiunto tre gruppi. Allora, dopo due anni ripresentate una formula ben riuscita, però con rinnovato interesse. Eh sì, ci proviamo, questo è il nostro obiettivo per quest'anno, è riuscire a rifare un evento più grosso, più bello e più coinvolgente per tutti. Ecco, qual è la scelta artistica per questa edizione? La scelta artistica è far suonare gruppi che non hanno mai avuto l'opportunità di suonare in un palco grande come quello che forniamo noi. Secondo noi, che comunque siamo musicisti in prima persona, è un'emozione grossissima suonare davanti a tanta gente, su questo palco grande, con tutto un fonico, tutto un service dietro che ti segue, dà proprio l'esperienza di un concerto, come fosse per dire a uno stadio. L'appuntamento quindi è per? Al 21 luglio cominciamo alle 8 e mezza col primo gruppo e finirà verso mezzanotte. E poi il 22 stessa cosa, dalle 8 e mezza fino alla serata inoltrata. Sabato si finirà sempre a mezzanotte e poi comincerà il 17 con il Cava in Flower, che andrà avanti fino alle 3, forse anche qualcosa di più.